Un costante via vai di persone da un appartamento di Vittoria. Tanto è bastato ad insospettire i carabinieri che nelle ultime ore hanno arrestato Gastrucci Eric, 23enne vittoriese già pregiudicato. Ieri i militari di Vittoria, nel corso di un attento servizio finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti, lo hanno sorpreso in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze di droga. Dopo numerose indagini svolte nell'abitazione del 23enne incontrata a Valseca, si sono insospettiti, come accennato, per un via vai di persone. A tal proposito, i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare rinvenendo in una fioreria del balcone due piante di cannabis indica, di un'altezza compresa tra i 10 e i 160 centimetri. Inoltre, il 23enne è stato trovato in possesso di 48 grammi di marijuana già essiccata e altri 2 grammi di hashish, oltre a qualche centinaia di euro in manconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato dai carabinieri e il giovane pusher sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa. A Comiso, invece, sempre i carabinieri hanno arrestato in flagranza del reato di evasione MA di 59 anni, nazionalità tunisina, in atto sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, a Vittoria, poiché è responsabile del reato di maltrattamento in famiglia commesso nel mese di giugno. Il tunisino, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato sorpreso dai militari dell'arma fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione. L'arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.